Panorama d'Italia qui a Matera, perché? Perché Matera è una città che rappresenta l'eccellenza italiana e rappresenta l'Italia che si fa conoscere per il bello che sa fare nel mondo. Volevamo celebrare questa città al di là dello straordinario e meritatissimo incomio che gli è stato dato, essendo stata nominata capitale della cultura europea del 2019, perché pensiamo e abbiamo trovato a Matera i germi di una società, di un'imprenditoria, di una gioventù, di giovanissimi ragazzi che sanno essere vanto non soltanto della Basilicata ma dell'Italia intera. E' un altro momento di riconoscimento, di gratificazione, ma soprattutto è la certificazione ormai dell'autorevolezza che la città ha raggiunto, un'autorevolezza che la pone in testa alla comunicazione e all'attenzione nazionale. Ed è questo uno degli elementi che mi ha portato a scendere in campo, cioè questa è la prova di quella attrazione, di quel potere contrattuale che la città ha e che deve usare per uscire fuori dall'isolamento e per attrezzarsi come città europea. Si parla e si parlerà di identità. Qual è l'identità della città dei Sassi? Beh, l'identità è la città che ha costruito continuamente nuova storia e diciamo che è la città viva più antica del mondo. Per essere viva non è mai morta e per non morire ha dovuto sempre produrre nuova storia. Grazie a tutti.